Per la seconda volta in pochi mesi i residenti di San Salvo della zona industriale della Marina di Vasto si trovano costretti a non poter utilizzare l'acqua per uso alimentare. Un provvedimento a scopo precauzionale dopo la comunicazione da parte del Sian dell'Asla 02 Abruzzo a seguito dei risultati delle analisi sul campione di acqua destinata al consumo umano prelevato dall'impianto di trattamento dell'Arap Servizi in Viale Germania San Salvo. Come raccomandato dall'azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti, dipartimento di prevenzione. A riguardo il sindaco del comune di Vasto, Francesco Menna, si è espresso così. Vasto Marina, San Salvo e Montenero hanno dovuto proibire l'acqua per uso umano su disposizione del Sian e dell'Arap, del consorzio industriale. Già da oggi però i valori sono rientrati, questa è la comunicazione che ci è già arrivata per le vie brevi. Di lunedì ci sarà un successivo controllo, indubbiamente si tornerà a una situazione di normalità. Sono controlli che vengono fatti di routine, vengono fatti con cadenza e frequenza ordinaria e che quindi portano per questioni di sicurezza ad adottare questi provvedimenti. Ma di qui a qualche ora la situazione tornerà nella normalità e con il sindaco di San Salvo e il sindaco di Montenero revocheremo le nostre ordinanze. Intanto in Abruzzo sono in arrivo circa 85 milioni di euro per la sicurezza del sistema idrico integrato regionale. Alcuni di questi fondi saranno destinati all'acquedotto del Verde, quello che alimenta 40 comuni, tra cui Vasto, Lanciano, Ortona e San Salvo. Tre gli interventi proposti che consentiranno di risolvere le annose criticità in termini di approvvigionamento idrico della maggior parte dei comuni del subambito chietino, attraverso un incremento delle portate disponibili e il raddoppio delle adduttrici principali, unitamente alle necessarie interconnessioni.